Ha intenzione di aprire un e-commerce? Stai attento al budget pubblicitario. Un e-commerce mediocre ma con alta capacità di spesa batte un e-commerce bellissimo ma con poco budget a disposizione. Questo ti deve far riflettere attentamente. Prima di buttarti a capofitto nel mondo della vendita online e nella realizzazione di un e-commerce, fai uno studio di fattibilità valutando i margini che hai sui tuoi prodotti e il budget pubblicitario necessario per raggiungere i tuoi obiettivi di fatturato. Senza budget non si va da nessuna parte. Riceviamo ogni giorno richieste di preventivo per la realizzazione di un e-commerce dove l'unico interesse è quello di sapere il costo di realizzazione con il focus sulle funzionalità. Almeno in una fase iniziale il budget per la realizzazione dell'e-commerce dovrà essere solo una piccola parte rispetto al budget che dedicherai alla sua promozione. Prima testa il mercato e poi investi con consapevolezza per migliorare l'e-commerce perché altrimenti il tuo progetto sarà un doppio fallimento.